Qualche settimana fa, la Games Workshop ha annunciato il ritiro dal mercato di alcuni modelli storici di Space Marine, portando un po' di sgomento tra coloro che temono di vedere scomparire dalla fazione tutto ciò che non è primaris. In realtà si tratta di un processo fisiologico, dovuto alla naturale evoluzione del gioco. Quando un modello ha fatto il suo tempo, viene semplicemente ritirato dal mercato. Molte volte, però, questi modelli vengono sostituiti da versioni più aggiornate, o da altri che ricoprono lo stesso ruolo. Altre volte, come nel caso della Legione dei Dannati, vengono mandati in pensione nella categoria Warhammer Legends, che mette a disposizione regole per usarli in partite casual tra amici, ma non nei tornei o nelle competizioni ufficiali. Altre volte ancora, il processo è un po' più complicato e certi modelli scompaiono all'improvviso, lasciando dietro di sé solo un anone di mistero. Un po' come era successo agli squat prima del loro recente ritorno. Ecco, oggi facciamo luce su altre quattro storie di questo tipo, modelli che un tempo erano giocabili, magari anche molto amati dai giocatori, e che a un certo punto sono scomparsi. E non tutti, ve lo anticipo, sono poi stati ritrovati. Il primo caso di cui ci occupiamo oggi risale ai primi anni 90. Siamo verso la fine del ciclo vitale della prima edizione di Warhammer 40.000, che ancora si chiamava Rogue Trader. È un periodo di grande sperimentazione. Il gioco è ancora a metà tra un wargame e un gioco di ruolo. E anche se comincia a riscuotere un buon successo, sta ancora cercando la sua identità. E per questo le cose cambiano in fretta al suo interno. In un articolo dedicato ai divoratori di mondi, pubblicato su White Dwarf numero 153 del settembre del 1992, tra le altre novità viene presentato il modello che ci interessa, il Blood Slaughterer di Korn, traducibile come macellatore sanguinario. Una macchina demoniaca folle che solca i campi di battaglia su ruote dentate, brandendo una grossa ascia catena e un flagello potenziato le cui punte rilasciano un veleno corrosivo, più due requiem pesanti montati sul torso, utili per allungare la gittata del massacro. Il macellatore però a vita breve. Quando nel 1993 si passa alla seconda edizione, di lui si perde ogni traccia e si finge che non sia mai esistito o che al massimo fosse un Dreadnought che non ci ha creduto abbastanza. Un modello con lo stesso nome è stato prodotto dalla Forgeworld quasi vent'anni più tardi, nel 2010, ed è tuttora in vendita sul loro store. Questo nuovo macellatore è più grosso e di forma differente. Le similitudini però si fermano solo al nome e al fatto di essere una macchina demoniaca devota a Korn, che è un concept piuttosto generico. Lo stesso si potrebbe dire poi del Signore dei Teschi, uscito nel 2013. Un altro modello, e questo ancora più grosso, che potrebbe averne ripreso vagamente le fattezze. Il macellatore originale comunque rimane nel ricordo di pochi. Rimaniamo in tema caos e passiamo ora al prossimo caso. Ce ne parla il nostro inviato Nicolas Sacco, che ora è in collegamento astropatico. A te la linea, Nicolas. Grazie Eleonora. Mi trovo su questo mondo demoniaco nell'occhio del terrore per raccontarvi la scomparsa dei mutilatori, quegli Space Marine del caos talmente ossessionati dal combattimento all'arma bianca da finire col trasformarsi nella loro corruzione in degli orribili agglomerati di carne e metallo con la capacità di assorbire lo spirito delle armi, meglio se demoniache, e poi farle emergere dal proprio corpo in battaglia, per dare sfogo ai loro istinti omicidi. Si tratta essenzialmente della versione da mischia degli obliteratori, che sono la stessa cosa, però con armi da tiro, ma che sono presenti nel gioco fin dalla seconda edizione. I mutilatori, invece, vengono introdotti nella sesta edizione, più precisamente nel 2012, con il lancio del relativo Codex degli Space Marine del caos. Non riescono però mai a sfondare davvero, forse perché un po' sanno di già visto, o forse perché messi in ombra da modelli molto più figli rilasciati nello stesso periodo, come i Predatori, il Drago Infernale o il Demone della Forgia. Il fatto di essere in fine cast poi non aiuta di certo. Restano in sordina anche nelle edizioni successive, e mentre la gamma dei Marine del caos viene pian piano rinnovata, loro vengono essenzialmente relegati in un angolino dei nuovi Codex che escono, a patto che se ne stiano lì buoni senza disturbare. Nel 2019, per esempio, gli obliteratori ricevono nuovi modelli, inclusi per la prima volta nella scatola Shadow Spear. Ma per i mutilatori non avviene la stessa cosa. Il loro destino è segnato. E infatti, quando nel giugno del 2022 esce il Codex di non edizione, dentro non c'è più il loro profilo e i modelli vengono rimossi dallo store. Oggi, un anno più tardi, il loro profilo è disponibile tra quelli della serie Legends, aggiornati alla decima edizione. Ma a parte questo, non sembra essere previsto un loro ritorno. E qui si chiude la storia dei mutilatori. Linea a te, studio. Grazie, Nicolas. Passiamo ora al caso di un modello della Guardia Imperiale. Un cararmato che i giocatori veterani di questo esercito ricorderanno bene. Il Griffon. Costruito a partire dallo scafo del sempreverde Chimera, il trasporto truppe standard della Guardia, usato come base per molte varianti, questo veicolo corazzato incorpora un mortaio pesante ed è pensato per fornire ai reggimenti un supporto d'artiglieria a corta media gittata. Il Griffon venne introdotto nel 1995, con il Codex della Guardia Imperiale di seconda edizione, insieme ad altri carri come il Marras, il Basilisk e ovviamente il Chimera. Però, a differenza loro, che sono rimasti una presenza costante fino ai giorni nostri, il Griffon ha avuto una storia un po' più intermittente. Ricostruire i suoi avvistamenti non è stato facile. Arriva al primo Codex di terza edizione nel 1999, ma è assente nel secondo, uscito alla fine del 2003. Sembra che i problemi fossero nello stampo del modello, ma di questo non abbiamo conferme ufficiali. Quando però ricompare, due anni dopo, sul terzo volume della serie Imperial Armor, è un modello diverso, più coperto e senza i due artiglieri ad azionare il mortaio. E, cosa più importante, è prodotto dalla Forge World. Nel 2009, in questa nuova versione, compare anche sul normale Codex di quinta edizione, ma l'unico modello in vendita resta quello Forge World, tra l'altro molto costoso. Motivo per cui diventa molto comune realizzarne delle conversioni accorciando la canna del Basilisk. Questa situazione, però, dura solo qualche anno, perché nel 2014, con l'uscita del Codex della Guardia di sesta edizione, il Griffon è scomparso di nuovo, sostituito dal Viver, un altro carro che svolge la stessa funzione. Da questo momento in poi, non comparirà mai più su nessun altro Codex. La sua scheda viene riproposta giusto un'ultima volta nel 2017, per l'ottava edizione, sempre nella serie Imperial Armor. Forse per dare tempo alla Forge World di finire le scorte in magazzino, ma poi il modello esce definitivamente dalla scena. A partire dalla non edizione, ossia dal 2020, infatti, la sua scheda fa parte di quella della serie Warhammer Legends, e di recente è anche stata aggiornata per il sistema di decima edizione. Il modello, invece, soprattutto nella versione che aveva i componenti in metallo, è ormai diventato una reliquia molto ricercata tra i collezionisti. Ma ora colleghiamoci di nuovo con il nostro inviato, Nicolas, che ci parla di misteriosi rapimenti alieni. Ben ritrovati, cara gente. Sì, mi trovo nelle profondità di Nao Geddon per raccontarvi la storia di alcuni vecchi modelli Necron scomparsi ormai molto tempo fa, ma attorno a cui si è creato un vero e proprio alone di leggenda. Iparia, creature formate dalla simbiosi di un umano vuoto, cioè senza presenza nel warp, e tecnologia Necron. Creati a partire da umani rapiti appositamente per essere trasformati, hanno il corpo ricoperto dello stesso metallo vivente che forma quelli dei Necron, tuttavia conservano al loro interno anche i normali organi di un essere umano, cosa che li rende, di fatto, più fragili delle normali truppe e impedisce loro di resuscitare con i normali protocolli di rianimazione. In compenso, però, sono ben equipaggiati, annullano qualunque potere psichico manifestato entro un certo raggio e proiettano attorno a sé un alone di terrore. Iparia compaiono per la prima volta nel 2002, sul Codex dei Necron di terza edizione. Il primo interamente è dedicato a loro, che porta con sé un'ampia gamma di nuove miniature, dato che prima i modelli Necron erano veramente tre omini in croce. Inoltre approfondisce il loro background. Va detto che in questo periodo storico i Necron sono un po' diversi da come li conosciamo ora, e vengono descritti essenzialmente come automi al servizio dell'Iktan, le vere menti dietro alla fazione. Rimanerei in tema, in un paragrafo del manuale viene anche lasciato intendere come quando la specie umana era ancora giovanissima, siano stati proprio loro a inserire il gene Paria nel suo DNA, così da ottenere millenni dopo soggetti adatti alla trasformazione. Insomma, i Paria sono ben radicati nel contesto, alla gente piacciono, e sembrano gettare interessanti premesse per sviluppi futuri. Con l'uscita del Codex di quinta edizione nel 2011, però, arrivano dei grossi cambiamenti al background della fazione, il più rilevante dei quali è che ora i Necron non sono più schiavi degli Iktan, ma anzi, si sono ribellati ai loro padroni e li hanno sottomessi. E in mezzo a tutto ciò, i Paria scompaiono nel nulla. Non sono più un'unità giocabile, i modelli vengono ritirati dalla vendita, e non si parla più di loro da nessuna parte. L'enorme gomma chiamata Retcon si è abbattuta su di loro senza pietà. Unica nota positiva, visto il periodo, è che gli ha risparmiato di essere ristampati in resina Finecast. Un minuscolo spiraglio lasciato aperto per un loro possibile, anche se ormai improbabile, ritorno è un breve trafiletto pubblicato nella cronologia degli eventi del Codex Necron di settima edizione, uscito nel 2015, dove si accenna come lo studioso Necron Zeras abbia catturato e iniziato a condurre esperimenti su un assassino Culexus, che notoriamente sono dotati legione paria. Potrebbe però trattarsi di un easter egg e di nulla di più. Da allora Zeras ha ulteriormente sperimentato sulle forme di vita biologiche e si è unito agli sforzi del resiliente Zarek per tentare di invertire il biotrasferimento. Potrebbe essere un altro spiraglio, ma comunque ad ora la situazione non è cambiata, e con un po' di rammarico bisogna constatare che i Paria, con il tempo, forse resteranno solo il vago ricordo di un'edizione che fu. A questo punto il mio reportage è finito, quindi vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ridò la linea allo studio. Questa era l'ultima storia di oggi. Prima di salutarvi ci tengo a ringraziare l'inviato speciale Nicholas d'Astropate per la partecipazione. Sono sicura che molti di voi già lo conoscono, ma se così non fosse vi invito a dare un'occhiata ai suoi canali, che trattano gli universi di Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, Age of Sigmar e molto altro. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venitemi a trovare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione.